Primo allenamento con la formazione rosso-azzurra per Fabian Rinaudo, che a Torre del Grifo ha ritrovato Lucas Castro, con cui ha giocato nel Ginnasia sulla linea mediana fino al 2011. Il passaggio del centrocampista classe 87 in maglia rosso-azzurra, come già anticipato dalla nostra redazione, avviene a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Rinaudo si è sempre distinto per la sua grinta e ricorda un po' l'Almeida della Lazio. Gioca come interditore, recupera e difende palla grazie al buon dribbling di cui è dotato. Chiusa la questione centrocampo, il Catania pensa all'attacco. L'esterno del Genoa Riccardo Centurion è vicinissimo agli Etnei più di quanto non si dica. Nelle prossime ore potrebbe già firmare. Si allontana invece Piatti del Valencia. Dal mercato al campo, dove si cerca continuità, arrivano buone notizie da Bellusci che oggi ha effettuato i primi test in gruppo. La formazione di Gigi De Canio ha necessità di dare seguito all'incoraggiante prestazione casalinga contro il Bologna. Cancellare lo zero dalla casella punti in trasferte e dar fastidio a una diretta concorrente per la salvezza. De Canio confermerà il 4-3-3 con frisone inamovibile tra i pali, rolin e spolli al centro della difesa, sugli esterni Peruzzi e Biraghi. Quest'ultimo sostituirà Alverez. Mediana affidata all'Odi che libererà anche le manovre di gioco di Plasil e Iziko. Bergesio al centro dell'attacco sarà supportato dagli esterni Castro e Barrientos.